Fiddlestick, ma giungli o vuoi ciappo? No no, giunglo, giunglo Bravi, bravi, vabbè Comunque, ciao Ecco Ragazzi, comunque siamo qui Su sto gioco League of Legends Su gioco? Sì, esatto Comunque sto facendo Sto facendo una parità con gli iscritti Che appunto ho detto nell'altro video Quelli che non sono stati invitati Tranquilli, non piangete Vi inviterò al prossimo video E basta Dai, presentatevi bambini Dite chi siete Dite che lavoro fatti Io sono un cancro Tanti, sono Gabri Eh, va bene Io sono lì Sono drogato Zilla, posso parlare? Visto che sono un tuo iscritto Posso dire qualcosa? Sì, dillo, 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 dillo pure No, raga, io sono un iscritto da Zilla Da fin da quando aveva un iscritto E ero io Io sono il suo secondo iscritto Ah, no, vero, raga Mi si dimenticato che il primo iscritto di Zilla Era la mamma Scusate Era mia nonna Che poi è morta Guardando i 100 iscritti No, raga Io lo dico Era mia nonna Che poi è morta Aspettando i big iscritti È morta È andata così È andata così, raga Sulla sua tomba c'è scritto RIP e Zilla E basta Ok No, in realtà non è andata così Non è andata così in realtà È morta perché stava aspettando i video di Dada No, sulla sua tomba c'è scritto Iscritto È morta perché stava aspettando i video di Dada È morta perché stava aspettando i video di Dada È la verità, raga Io dico stata la verità Perché siamo tutti Raga, mi state aspettando dei miei video Vabbè, dai, poi li caricherà Li caricherà, ragazzi Oh mio Dio Raga, mi sono appena lavato, ragazzi Profumo Madonna Madonna Sì, oh, amiche, veramente Prima puzzavo di merda Prima, amiche, amiche, amiche Passavo Prima Prima passavo Mamma di Dada sveniva Non capivo cosa succedeva Cose strane Sì, fatti due domande Ero tipo Singed, ero, guarda lì Mamma mia, sì Oh, ti è lontani Mamma mia Oh, basta Bumbi Singed ha fatto Si è riconnessa adesso, Ari Comunque Singed è il tuo perfetto cosplay Esatto, è lui, lui, lui Oh, lui Attenti Attenti, dobbiamo stare Comunque, ragazzi, siamo nel team speak Tutti insieme Quindi vuol dire che anche l'altra squadra È nel team speak Quindi ci sentiamo Cioè, se io dico Raga, adesso vado sopra Non mi seguo Sì, bisogna No, ragazzi Parliamo con i ping Parliamo con i ping Facciamo così Allora Oh, oh Oh, oh Oh, oh Che che pinga così Porco Oh, my God, raga Oh, my God, raga Oh, my God, raga Oh, my God Oddio Che cosa significa Che fuzzi Oh, basta Basta Oh Oh, mio Dio Raga, un atto terrorismo Attenzione, un atto terrorismo chi è che puzza, tua mamma puzza, tua mamma puzza, la tua nonna, oddio, oddio portello, è il portello, è il portello, è il portello, è il portello, non ci credo, oh mi sa che ho appena visto un gatto, è morto ragazzi, non ci credo ragazzi, cioè io uso feed stick perché quello lì giungla giungla, però fa cagare feed stick, madonna, ma giungli o poi sapete quello lì ho aperto anche il canale youtube, canale di twitch, pagina facebook, si tipo, la mia la mi piace alla foto, si oh non ha senso, oh ma lo sai che la sua pagina di facebook ha più like della mia, ma io capisco cosa fa ridere di quella cosa, no dai non puoi dire che non fa ridere, però non puoi dire mi chiamo faccio youtube, diciamo che non mi fa più ridere, ha detto una frase, vabbè raga ha fatto ridere per le dieci volte che l'ho visto qui basta, però vabbè, non è vero, ha fatto ridere per una volta che l'ho visto, no no io l'ho vista dieci minuti, no no giunglo giunglo giunglo, una ripetizione, una ripetizione, ma raga un raga un secondo, un secondo ragazzi, no 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 no, dai mica dieci minuti di giunglo, faranno anche la versione da dieci ore se non l'hanno già fatto, ma si non l'hanno già fatta da dieci ore, l'hanno già fatto, si si, no no giunglo giunglo, c'è gente che ha veramente il coraggio di sorbirsi dieci ore di fila di giunglo giunglo, lo sapete, si si lo fanno, no no io giunglo giunglo, si però raga non ha senso, cioè non puoi mica aprirti un canale youtube così, e... e fai nella mia giunglo giunglo, cioè hai detto giunglo giunglo, hai detto, mi chiedi interrogazioni in classe, giunglo giunglo, giunglo, no vabbò far ridere però, basta, si non meritava, non meritava tutto questo, no vabbè tutto questo è successo forse no, però meritava lo stesso, oh raga, girala, io sì ovvio ovvio raga, io c'ho il pisello lungo, io c'ho il pisello lungo, io c'ho il pisello grosso, merito, tu merito mille, milioni di iscritti, basta, mi sono arrivate delle voci che, i bumbi tu sono youtuber, no, un porno tuber, un porno tuber, che cos'è un porno tuber, che bello che Gabri per salvarmi muore, ciao Gabri, no no giunglo giunglo, oh raga andiamo, raga ciccio deve morire, ciccio deve morire, io, io dico raga ciccio, ricordati, e anche tu, devi morire, devi morire, raga ma c'è ancora avanti un altro, certo che c'è, è rompe il cazzo, rompe molto il cazzo, rompe, ma c'è bonolis ancora, sì c'è bonolis, c'è ma volete mettere bonolis con geliscotti, ma, oh raga, ari ari, fiquill, orcodio, aiuto, aiuto, sì raga questa qua è pubblicità occulta ragazzi, ragazzi voi non lo sapete, ma mo sulla paypal mi sono arrivati 10 miliardi di euro per la pubblicità, mi dispiace, esatto, ecco, ma basta che pronunci i loro nomi per avere soldi, sì esatto, bravo, ok, confide stick, che cazzo mi vuole, giungli giungli, giunglo basti, bravo, mi piace, mi piace, si intelligente, come te ha fatto il culo zilla, cosa vuol dire come te ha fatto il culo, ah come ti ha fatto il culo, questo te alla romana proprio, comunque raga io vi giuro che volevo andare a luca comics, però poi non c'avevo testa, no non è che se non c'ho soldi, i soldi ce li ho, capito no, per le puttane, no scherzo, scherzo, no, poi le mie ragazze mi ammazzano, no no raga, 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 se la mia ragazza lo scomincio mi ammazzo, mi scopro che ho detto una cazzata simile, comunque non è vero, non è vero, bugiardo, 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 io credo all'amore eterno, aiuto, aiuto, amore eterno, tu, finissi alle russi, ok, fatti io, il portello di zilla, oh oh mio dio, ah ciccio amore, ciccio amore, ciccio no, sono morto anch'io, fuck, raga, fuck, no raga, partiti scherzi, no raga, raga, domani, no raga, signori, tutti zitti, per favore, tutti zitti, domani ragazzi, probabilmente vi farò vedere l'unboxing del 3ds che vi sono comprato, e dentro ci sono due, e dentro ci sono due giochi random che mi hanno dato così a cazzo, minchia, raga, se mi esce tipo un Giulia Passione, li ammazzo, li ammazzo, perché c'era l'offerta, 130 euro, Giulia Passione, forno star, no raga, ma c'è, raga, ho visto giochi dove tipo devi cullare i bambini, dove devi allattare i bambini, no, fuori di testa, no raga, se mi escono, minchia, no, non scherzare, raga, se mi escono, perché dicevano due giochi random, madonna, se escono li recensisci, sì, ok, io faccio la recensione, raga, ve lo giuro, oh grandissimo Giulio, chi si critica così, no, grandissimo Giulio, raga, no, bella, oh raga, ciao raga, ciao raga, no, sono morto così, ma no, è morto sera, raga, questa è ingiustizia, no, raga, questa qua è la battaglia dell'ultimo sangue, ma raga, io sto registrando, no raga, non sto registrando, ma come, ti sei preso male, ti sei preso male, ti sei preso male, no, comunque, ormai, ormai mi zì l'amico, ma stai zì, ma stai zì, comunque ragazzi ho avuto la febbre a 39, siete tristi, ditelo, era 37, no, no, era 39 a casa mia, 37 oggi, ieri sera, 37 di febbre, 37 di febbre, 37 di febbre, sì, sì, guarda, proprio febbre, che cazzo vuoi, stai zitto, oh ieri, stasera, oh io c'ho ancora 37, non mi scelgo, tu devi capire che sei sempre malato, indipendentemente dai gradi della tua febbre, ma che cazzo stai dicendo, stai, 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 qualcuno lo cancelli, ma che stai a dir, ma che mesta, oh raga, occhio, raga, occhio, no, sto scherzando, ragà, io sto cazzeggiando, ma inizio a fare qualche pentakin, ahah boh sto cazzeggiando boh inizio a fare qualche pendek cosi ah non è morto glaccia devi fierare qualcuno comunque ragazzi ragazzi glaccia al sphere anche lui c'ha un canale youtube passate da lui ragazzi mi raccomando fa pokemon come me un grande glaccia al sphere un grande lo seguo ah qua c'è un fungo ecco bravo ma seek explosion ma tu sei stato uno dei primi a seguirmi vero? lo so lo so oh raga aiuto no no raga carichi dade carico dade no oddio 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 raga bordello bordello lunga si sono stato uno dei primi veramente sei stato uno dei primi spaccati a merda eh quanti iscritti avevo quando ti sei iscritto già? oh 70 minchia sei un grande un grande basta basta ragazzi farò una cornice per seek explosion basta basta perchè ragazzi dovete sapere che i miei iscritti che mi seguono veramente io mi affeziono mi affeziono seek explosion ogni tanto gli dico vaffanculo sei affezionato a me zilla no raga oh dovete parlare una volta una alla bocca sei affezionato zilla si a te si risvoltini che hai detto risvoltini raga ho capito risvoltini no ho detto sempre che cazzo vuoi risvoltino di merda nooo non a te l'altro chi è che stava parlando risvoltino non ho capito nooo sei affezionato anche gli iscritti di risvoltini si vabbè loro loro più o meno loro possono morire però aspetta non dirmi che tu hai risvoltini non dirmelo non dirmelo no raga non ci credo sotto una ultimate così alla cazzo chi si fa i risvoltini viene cacciato istantaneamente viene proprio bannato dal mondo non dal ts oddio dal mondo eh si perchè gli gli vengono le alluvioni gli vengono le alluvioni oppure muoiono mentre raccolgono mentre raccolgono le cozze muoiono gabrie i risvoltini counterano gli alluvioni si eh ma non le cozze non le cozze che devono raccogliere si counterano le cozze anche le vongole anche le vongole ah boh no no sono immortali sono immortali sono immortali addio dada siamo tutti immortali raga ci sono raga pentakill pentakill mi spacca merda si chiama timo no oddio no vinta raga zonia salva tutti madonna raga oh mio dio raga che cazzo di farti raga seguite la mia scorreggia no raga porco dio acqua e sapone acqua e sapone acqua e sapone bravo 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 raga tutti di ignoranza tutti colpise in mano raga tutti colpise in mano vai 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 kazix brasil vai best kazix brasil vabbè nome elegante 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 un nome elegante comunque raga lo sapete che slackty è ammalato non siete tristi no raga camperiamo raga shh raga shh il buon slackty appena ti rimette raga torna a fare video con lui assolutamente devo fare video con lui oh vai da te figure di merda mi ha preso ari non vale la giz per solidarietà centrato poi si si lui ha detto proprio non posso lasciarlo morire da solo vengo anch'io oh oh fiddlestick maaa giungli o vai support no no giungli giungli no no sapo sapo micchia ragazzi che roba vuoi che cos'era che cos'era che cos'era ma che cos'era cosa vuol dire cosa vuoi che cosa vuol dire che cosa vuol dire che roba vuoi oh ah ma che sa che micchia raga ma c'è il bordello raga no nooo gli ero bato la penta gli ero bato la penta che non vale niente mamma mia cazzo gabri gabri nazista any galaxy nazista ah Hitler proprio si ok guarda tendo il braccio pure ah 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 raga ma volete finirla vabbè ma è uguale cioè se vinciamo vinciamo tranquilli non è che vogliamo finirla vinciamo perché vinciamo no finiamolo finiamolo vai vai allora cattivi mi dispiace giulio mi dispiace giulio mi dispiace giulio mi dispiace ciccio mi dispiace dobbiamo concursare timo ovviamente raga timo timo il cattivo no ragazzi no no raga è partita l'ignoranza raga è partita l'ignoranza raga l'ignoranza raga l'ignoranza raga l'ignoranza raga l'ignoranza exa kiiiiiiii madonna raga l'ignoranza è cattivo no what the fuck battene via battene via questa è cosa mia questa è cosa mia albania a casa mia albania a casa mia raga voglio venire che mi faccio tutti e due lol dai che questa vita voglio farvi tutti e due dai no no tu stronzo dottor colomb porco raga mi hanno scondato lol saluto il babbo e jean lol no ma raga io dove cazzo l'ho visto dottor colomb ah umbi vieni qua no infatti ho detto dottor colomb che cazzo fai ma non c'è nessun dottor colomb porco balliamo tutti davanti al vilemav si così balla anche lui così balla anche lui si gratta le ascelle un pochino poi lo uccidiamo no raga io ho detto porco du la mia ragazza mo mi deve chiamare c'ho cose importanti da fare sto studiando allora si studiando stai studiando sto studiando raga no ho detto che ha voglia di pisello eh vabbè eh adesso parto ragazzi il video finisce qui no raga stavo dicendo che ho detto dottor colomb ma in realtà si chiama colo pierre no no scusami scusami che grandissimo ma non so leggere non so leggere ciao timo i'm coming get your 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 ass i'm coming get your ass ok si umbi io sono nigga tu sei inglese nato gabri è fierissimo aiuto ai umbi eh raga sei di brando con la ultimate dovresti ringraziarmi che sto usando il tuo cosplay in una vera fatica il mio cosplay ma io sono più posto ma io sono bellissimo come fai a dirmi queste cose brutte ecco è partito è partita l'ignoranza signore il flash finale è stato un coppio di glass gg che partita stola sera non mi perdono soltanto perchè non è ancora scoperto la domanda you son of a bitch 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 porco 2 gumbi lo sai che non hai usato la ultima lo so ma infatti non l'ho usato apposta perchè non ho capito no strategia si si strategia strategia raga aspetta settimana col di in base ok giunglo giunglo no no giunglo giunglo no no raga suco suco su post su post su post adesso io giunglo giunglo no no raga suco suco ci pensi vai in autostrada oh no raga 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 vai in autostrada scusa ma no com'è succhi o o qualcosa no no raga no non mi è venuta bene sta battuta basta tagliamola 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 stacca stacca mi fai pera giunglo giunglo oh dade era bella cioè succhi mi fai pera dade dade era un succhio succhio però mi manca l'altro oggettivo cioè l'altro verbo capito cioè zoccola zoccola ti fai un cularo succhi no no succhio o succhi ecco l'ho trovata l'ho trovata raga l'ho trovata basta faceva ridere all'inizio però poi basta taglio taglio metto un bip al posto raga metto un bip molto lungo molto lungo per 30 secondi molto lungo lungo ma raga io c'ho senti a un certo punto del video piiii 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 raga continuate a scappare raga fidatevi scappatevi ora fidatevi fidatevi ho detto fidatevi girati non ci credo what the fuck raga mi hai rubato mi hai rubato tutte le kill no madre che colpa mia sono loro che mi seguono che cazzo vuoi da me gg report gabri eh già raga è gg lol no comunque ragazzi ehm adattatemi la mia battuta cioè fate la mia battuta capito no col succhio succhio ma bella che sia divertente capito perchè non mi è venuta bene non mi è venuta tutti zitti e zilla chiede qualcosa a tutti zitti zumbi ma tu giungli giungli no ma no non dicevo a voi raga dicevo a quelli dei commenti a quelli dei commenti alle brave persone che guardano i miei video oh non li guarda nessuno i video vabbè quindi tu mi raga vi cancello tutti quanti vi cancello raga ma qualcuno che sta giocando in questa partita guarda video di zilla veramente raga ma qualcuno mi sti guarda qualcuno mi guardava non entro no 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 noi volevamo noi volevamo giocare con Dante ah ecco 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 occhio oddio no no bravo gabri ciao no bello metti per me gabri tu si che sei forte come osi gabri sei forte io lo so di essere forte oh raga 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 c'ho una raga raga c'ho una battuta per farmi perdonare ok raga sentitela sentitela qual è il gelato preferito degli immigrati qual è vabbè l'ebola no vabbè a parte quello l'affogato 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 vabbè guarda che cattivo no ragazzi come titolo guardatemi come titolo metto la battuta più brutta del secolo ok vedi ma che cattiva tra l'altro ma che cattiva eh vabbè la tua era peggiore l'ebola scusi gelataio vorrei una vaschetta di ebola da portar via si si da portare anche a mamma la portare la portare anche alla mia famiglia la portare anche alla mia famiglia basta una porzione di ebola la prenderebbero anche se non la volesse lol vorrei una cappetta anche per la mia ragazza è casato è casatissima gilla scappa grazie scappo scappo g padrone come vi fate fare la pentachill no la pentachill eh ma la pentachill io mi sento inutile ecco diamo la pentachill ok no vabbè un fungo voglio fare l'ex aquí morto ok raga mi sono risvegliato raga mi sono risvegliato allora che stanno facendo ah si stanno vincendo raga finiamola sta partita what the fuck siamo ancora qua e siamo ancora qua eh già ma chi è ma cos'è ma cos'è ma cos'è sta canzone ma cos'è tuo padre mi che è giovannotti giovannotti è tuo padre zilda è tua mamma tua mamma che duetta con tua zia è tuo padre tutte e due lì a pecora e siamo ancora qua a pecora è tua mamma è già oh dio raga ma che che video triste sta diventando raga abbastanza triste tristissimo no raga dai perché ha flashato sto casista c'è partito c'è partito c'è partito c'è partito c'è partito raga maleducati ciao raga 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 perdiamo oh no ma no ma cos'era raga no quelle maestre a scuola non vi hanno insegnato che si che si beve dopo raga c'è partito raga c'ho la tosse c'ho la tosse c'ho la tosse no raga finiamola raga finiamola adesso che possiamo sennò questi poi ci battono per la mia ma non possiamo they come back they come they come raga è il bello che li stavo shottando eh dada ma sei scemo dada ma io non ci credo che mica mi hanno ucciso esattamente quando ho fatto la ultima ma tu c'è la zonia c'è la scuola c'è quella roba la e infatti lo usate lo stesso secondo in cui mi hanno ammazzato questa è la cosa ma raga la prima torre facciamoci il coso il baron come cazzanina piacere pinola lavatrice aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaow pino la lavatrice pino la lavatrice pino la lavatrice pino la lavatrice non mi sta amarendo dai te l'ho detto non abbiamo acquisito un altare nemmeno oh dai mai te l'ho detto che c'ho la lebra addosso adesso scappa fuggi fuggi proprio cattivi 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 ehi tu tu immigrato vieni qui è morto raga ma jinx fa un danno della madonna ciccio mi fa mi spacca tutto raga mi hanno stonato no raga ma mi hanno stonato boh raga spero che il video vi sia piaciuto dichia raga ci stanno paonando ma che cazzo non ci posso credere beh raga confessiamo raga confessiamo che abbiamo che abbiamo fatto sul lanci raga sul rendiamo non ci possiamo fare basta raga abbiamo un altare è vinta no raga avevamo pure il baron il bonus no raga perchè io sono morto come un deficiente devo usare bene la mia ultima e poi gli spacco tutti guardate jinx ora c'è un botto con il muoremo vieni qua c'è un botto sei morto sei morto stai zitto strategia strategia vedi cosa ho fatto grazie a me ecco vedi tutto grazie a me tutto grazie a me volete vedere gnar che sparisce raga serve troppo a sinistra da vero io te la finisco no ya lo fai scappare fino alla lavatrice che cazzo c'entrava che danno fa raga finquanto non hanno tutto jinx la possiamo finire si comunque ragazzi vieni a farla quando è che vedremo un tuo video date me lo puoi dire quando è che lo vedrete non lo vedrete esatto ragazzi disiscrivetevi ha chiuso il canale guardate che ci sono già mamma mia che avido umbi sai che c'è un girone all'inferno per quelli come te mamma mia si c'è un girone dell'inferno youtuber youtuber proprio così e guarda che dante l'ha inventato infatti eh ciao bello lui ma non è vero non è vieni qua brutto no vai tu da loro mi ha preso lui ma proprio ho detto vieni oh io salto per te dai veramente non ci credo non ci credo what the fuck dai io non ci credo mi ha proprio detto crabba lo prendilo no ma dada anche tu sei scemo però io sentite come si offende ragazzi raga raga report zilla raga cattivi bravi vai vi zoomo vi zoomo bravi la battaglia ragazzi guardate la battaglia com'è si la build di la build di gabriel è bellissima la build cosa ha fatto cosa ha fatto che cazzo è what the fuck fa un dono della madonna ma che io sono fermato gabby corri fatti inseguire so l'agga c'è ma veramente c'è gabby c'ha più più ap di me vabbè gabby non arrivavano nemmeno a me da lei in che morivano loro no lolla raga 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 è morto lui finita raga gg abbiamo due inibitor raga dai finiamola vaffanculo dai raga carichi sono io si dai dai andiamo andiamo xx 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 5 ragazzi esatto diciamo che loro sono sei ah è vero sei sei oddio i minion wignon 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 guarda capri guarda capri ride ahahah what the fuck capri mettilo dentro un nexus no gabri what the fuck vabbè raga raga per favore silenzio silenzio signori silenzio bene ragazzi il video finisce qui ringrazio tutti quelli che hanno partecipato mamma di data è una puttana comunque vi ricordo io la voglio la cornice si però silenzio ragazzi mettete mi piace se vi è piaciuto se vi è piaciuta la mia bontuta triste si esatto te la faccio promesso mettete mi piace se vi è piaciuta la mia battuta e poi iscrivetevi al canale mi piace la pagina facebook e i soldi la mamma di dada ciao ciao